Buenos Aires fa pace con i finanziatori. Giovedì l'Argentina ha raggiunto un accordo con il Club di Parigi, che riunisce i suoi creditori, per il pagamento dei debiti legati alla bancarotta all'inizio degli anni 2000. Il conto, che ammonta oltre 7 miliardi di euro, verrà rateizzato in 5 anni. Il primo pagamento dovrebbe arrivare entro maggio del 2015, seguito da una seconda tranche l'anno successivo. Rimane il problema di quanti non hanno partecipato alle ristrutturazioni del debito, ma intanto il paese sudamericano può ritenersi soddisfatto. I termini dell'accordo non peseranno sulle riserve di valuta estera e non è stato coinvolto il tanto vituperato Fondo Monetario Internazionale.